Salve a tutti ragazzi eccoci qui oggi con un nuovo video come promesso vi ho portato il terzo box sole e luna come potrete vedere ho già iniziato ad aprire il box ma c'è un motivo per il quale ho già iniziato perché come anche vi avevo accennato avevo fatto una collaborazione con un youtuber molto bravo e ragazzi non so se avete già visto la prima parte se non avete visto andatela a vedere ovviamente nel canale suo e il canale di questo youtuber è gioco ovviamente lo conoscete no penso che molti lo conosciate dei miei fan e ragazzi senza perdere tutto il tempo direi di iniziare ad aprire il primo pacchetto se permetti faccio anche un saluto a te e a tutti i tuoi fan e ti ringrazio per avermi ospitato sul mio canale sul tuo canale scusa ovviamente scusate che non sono abitato a fare queste queste sfide quindi non so come comportarmi tranquillo tanto perdi anche questa non è un problema no non spoilerare com'è andata con l'altra sfida giustamente sto zitto ok e apri il primo pacchetto vai anche io sto aprendo carta codice facciamo il trick a 4 e iniziamo subito una bella energia come al solito ragazzi sempre queste energie troviamo ma sono solo queste quindi io faccio vedere le carte abbiamo trambec corsola recupero di energia ivy sandy cast poliwag scarmorai morlul minor ball reverse ragazzi stiamo trovando tutte le bolle reverse tranne la ultra ball che volevo va bene eh vabbè vuoi troppo culo te si si sono anche la reverse determinazione di misti al mio al mio 3 andiamo eh 3 2 cioè no al mio 3 aspetta al mio 3 andiamo si vediamo al mio 3 andiamo 3 2 o una cosa ci sono rimasto un attimo come allora al mio 3 eh 1 2 cosmo m oh shizor ex non va cioè siamo già sto sul canale mio non puoi trovare le ex adi non ci posso credere leo mi porti culo devo fare più sfide con te niente basta non vale ragazzi si trova tutte ex e lui manca una gx uffa ora adesso ragazzi troviamo la gx me lo sento eh vado subito con questo secondo pacchetto gx assicurato mamma mia mamma mia cosa c'è ho visto qualcosa che è più di una gx ho visto qualcosa che è più di una gx molto bene aspira la vittoria così ragazzi sicuramente tornerà subito in vantaggio io ve lo dico eh con questo pacchetto vado in vantaggio metti a fuoco telefono piccoli problemi con la messa a fuoco come al solito va bene sì ok ci sono faccio vedere le carte e abbiamo persian erdier paras poliwag dupider ivy stafol drozzi reverse ecco ci siamo ragazzi ragazzi io so io ho corso la reverse hai fatta ah e quando vuoi io giro sono alla reverse ok 3 2 1 wow taurus gx full art ragazzi oh no eccolo qua bellissimo pure che ho trovato no ah io ho trovato niente ho trovato un rati che non trovo neanche le oro capito o trovo le rare normali o trovo le ex cioè io ho perso le foderine intanto quindi ricapitolando tu sei due punti io ho uno perchè hai trovato una full art esatto vabbè ovviamente al canale mio dovevo passare in vantaggio ragazzi se no non era il canale mio giusto così però tipo c'ho un piccolo problema che ho perso le foderine non le trovo più intanto eh eccola ragazzi continuo a spacchettare io eh sì tanto metto questa nella sleeve e poi apro il pacchetto anch'io ok io tanto vado molto lento con calma fai molto con calma fai vedere le tue carte comuni Taurus e GX ragazzi eh subito un vantaggio sono ripassato togliamo le carte comuni attenzione si vanta si vanta di se stesso certo che poi tra l'altro il Taurus e GX già ce l'avevo comunque vabbè si scambia dai sì sì allora carta codice andiamo con il trick a 4 ragazzi perchè sole e luna sempre a 4 ovviamente e abbiamo l'energia e andiamo con ehm le carte comuni abbiamo attenzione piccoli problemi Tauracat scambio di energia Niaudia Lola Dupider Biglet Merani Crow Brawler Mascarane Reverse niente io sto alla reverse eh ok ci sono anch'io ho un garbo del reverse raro oltretutto ok vai stavolta al contro la rovescia fallo te ok tocca a te 3 2 1 gira attenzione attenzione a passare di nuovo in vantaggio eh anch'io faccio tempo ad andare in vantaggio eh no no cosa no eh no 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 io inizio spacchettando il quarto eh sì sì io sto cominciando da prenderlo carta codice trick a 4 carta al contrario energia no davvero charge a bug hai visto oggi una reenergia ho trovato Minorable Crow Brawler Merani Dragon Rolla Dragonite Reverse attenzione io ho no dai vabbè sto stinto hai già hai girato cosa ti devo dire un'altra break no è bastufato questo break e basta mi dispiace è sempre break non lo so oggi cos'è questo è il box più culoso del mondo non so cosa dire senza parole avrò trovato praticamente tutto cioè non lo so è assurdo eh comunque ho trovato Dragon Ninja Break mi dispiace moltissimo ma la reversa è una break non vale ah vai pure gira quando vuoi se hai trovato qualcosa eh attenzione un gigabyte solo niente di che e passa in vantaggio tre punti per Gecko bellissima cioè comunque quattro pacchetti tra ultraare vorrei dire però allora quanti pacchetti ti sono rimasti siamo al quinto pacchetto sei sicuro si adesso stiamo apri il quinto si la matematica è il mio forte ragazzi eh come saprete i conti alla rovescia ed altri conti li sbaglio sempre si come al mio tre tre al mio tre ma come sono partito ho sbagliato qualcosa forse intanto io faccio vedere le carte rappresenta pure io faccio il trick e abbiamo energia molto bene Golbat ragazzi il volo del Golbat non so se ve lo ricordate se non l'avete visto andatevi a vedere Dragonair Poliweer Psyduck Litten Cosmog Rogue and Rolla Growlite Jungus Reverse c'è qualcosa no io ho tipo il Reverse al mio tre giriamo eh uno due Lunala GX molto bene no Lunala GX un bel Lunala GX bellissimo ah siamo di nuovo pari guardate siamo di nuovo pari ragazzi subito con Lunala GX nella sleeve se trovo la sleeve perché ok non la trovo quindi mentre niente sleeve niente punto eh ora vi lascio a Gego che vi racconterà qualcosa mentre apro le bustine prego a te la parola vai ah niente vi parlerò vi narrrò la storia vediamo qui cosa abbiamo qualche carta interessante di questo cicorita che si specchia nell'acqua e vede un fennekin è la stessa cosa che ho raccontato anch'io davvero anch'io l'ho raccontato sì oppure c'è il calendario di Purugli il fatto che Espor è più inquietante dell'uomo nero oppure di Panciam che ride troppo fino a scoppiare insomma qui le carte raccontano storie tutte su tutte loro questo ragazzi quante storie vi facciamo ascoltare quindi se volete altre storie questa non è un'apertura mi raccomando è una storia per bambini esatto vediamo un like per queste storie ragazzi un like subito qua e su quell'altro video che dovete andare a vedere assolutamente sul canale ragazzi andate per vedere come è andata la prima che è stata stupenda stupenda poi ragazzi se volete altre parti scrivete nei commenti che volete altre parti noi vi porteremo altre parti altri spacchettamenti io inizio ad aprire il sesto cosa dici? eh si anch'io ok perfetto questo ci ha aperto bene strano ragazzi non mi si aprono mai la prima botta carta codice trick allora salvo a tutti ragazzi a qui di nuovo qui come potrete vedere queste carte sono già sbustate perché ho iniziato a sbustarle ma come potrete immaginare ho fatto un piccolo taglietto e ve ne accorgerete perché il mio taglio sarà molto evidente ammetto che è colpa mia anzi del mio cellulare schifoso ecco cosa colpa sua quindi ragazzi colpa sua scrivete hashtag colpa sua colpa sua colpa di gengo hashtag colpa di gengo ecco il trick l'ho fatto ah si io il trick l'ho già fatto comunque ah si si io sto facendo vedere le carte delinquente ah ok ho fatto bene iniziamo bene ok io sono alla reverse anche io wishy washy reverse pancham io al mio 3 1 2 ma tu che non io ho uno shift regolare nada siamo al settimo altri due pacchetti ultimi due pacchetti andiamo prima con lunala ragazzi sul galeo per ultimo io devo assolutamente trovare una bomba adesso io trovo la ultra ve lo dico ragazzi eh no se trovi la ultra vuol vinci tutto cioè se trovo la ultra vuol vinto proprio tutte le sfede trick a 4 ragazzi sole e luna sempre a 4 andiamo con energia caramella rare araquanid spinda paras jungus shelder zubat toplio gol bat reverse ma questa volta a te l'onore del contro la rovescia perfetto io ho un espon reverse andiamo col 3 2 1 gira oh beh non male ho trovato bene una holo non vale punto però edge slash cloister carino molto bellino un cloister raro ho preso tutto dalla pila di testa mi sa andiamo con l'ultima carta mi stanno cadendo le hex ne ho troppe ne ne troppe dammene qualcuna a me no allora 1 2 3 4 5 6 7 8 si è l'ultimo ultimissimo pacchetto ultimo pacchetto andiamo con quest'ultimo pacchetto ragazzi siamo tre pari ve lo ricordo quindi adesso passerò in vantaggio io ovviamente e andiamo ad aprirla questa sicurezza in te stesso ogni volta che vivo così non trovo mai niente qua nei pacchetti allora te la tiro da solo si diciamo che me la tiro da solo è perché in realtà è buono e vuole che vinca io esatto sono molto altruista ragazzi voglio far vincere questa sfida a lui perché poi quando trovo la ultra bolsona ci rimane male capito? molto male se trovo la ultra ci rimango molto male visto che l'ho cercato anche io per tanto tempo ok io sono all'reverse ecco comunque stavo parlando di ultra bole ecco la ultra bole ragazzi peccato che non è quella che volevo però è sempre una ultra bole io sono all'reverse attenzione c'è qualcosa no c'è qualcosa si all'ultimo torna in vantaggio forse no 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 abbiamo rolet drozzi psyduck reverse dimmi quando sei pronto che va a parte con il contrarovesce sono pronto ok 1 2 sol galeo gx nooo perfetto ragazzi non ci credo pacchetto di sol galeo gx eccole dove stava vabbè non lo trovo più comunque pacchetto di sol galeo sol galeo gx vabbè giusto subito nella sleeve no io ho tratto 6 smith odderaro normale porca miseria sei in vantaggio torna in vantaggio all'ultimo pacchetto è incredibile io ho trovato 3 2 x e una turbo te con l'ultimo pacchetto sei passato in vantaggio non ci credo eccolo qua ragazzi non ci credo sol galeo e lunana ragazzi trovati tutti insieme e ottaurus gx full art ragazzi ora vi passo a giaco che vi deve dire una cosa molto importante vai giaco a te la assolutamente di cosa si tratta boh di qualcosa così ragazzi siamo giunti alla fine di questo video anche qui diciamo che è abbarato perché sennò avrei vinto io perché non si può prendere la gx all'ultimo però per il resto spero che questo video vi sia piaciuto se volete un'altra parte questo è il canale di Leonardo quindi andate a vedere anche la prima sul mio lasciatevi gran bei like e commentate qui sotto se volete le prossime parti perché devo assolutamente prendermi la mia rivista visto che questa seconda parte l'ho persa e quindi che altro dire ci vediamo al prossimo video Leo ovviamente ovviamente quindi ragazzi siamo uno pari per adesso quindi ragazzi al prossimo video già saprete chi vincerà no scherzo ragazzi e vincerà lui fa una volta per uno vai così e niente ragazzi se questo video raggiunge un milione di like compriamo altri 5 box si punta in alto un milione di like e 5 box per uno di solo e l'una perfetto e niente ragazzi vi saluto a Taurus e Gex full art Gecko io Leonardo vi saluto ovviamente e saluto tutti gli iscritti al tuo canale ci vediamo al prossimo video ragazzi like subscribe share e tutto quello che volete al prossimo video ciao ciao